Stasera a Gemona una proiezione speciale di un film in lingua friulana realizzato da due giovanissimi registi della cittadina pedemontana. Marco Buzziolo. Accolto con favore dalla critica alla sua prima uscita ufficiale, il film ha ottenuto in questi mesi un ottimo riscontro di pubblico grazie all'approccio moderno e spregiudicato nella regia e a un utilizzo della lingua friulana fuori dagli schemi. The Sims di Chiasi racconta in chiave grottesca le vicende di una giovane coppia omosessuale interpretata da Giorgio Monte e Manuel Buttus alle prese con una rara sindrome comportamentale che la affligge e le conseguenti imbarazzanti ricadute nei rapporti con il vicinato. Tratto da un racconto dello scrittore Renzo Brollo, il lungometraggio è stato prodotto e realizzato in modo indipendente da due registi gemonesi poco più che ventenni, Marco Londero e Giulio Venier, affiancati nel progetto da collaboratori provenienti da tutta la regione. Il risultato è un film che coniuga le tecnologie digitali più avanzate ad una narrazione fresca e accattivante che amalgama con successo vissuti e nevrosi tipicamente metropolitani in un piccolo contesto urbano dell'Alto Friuli, il tutto condito da uno humor surreale alternato a momenti di inaspettato lirismo. The Sims di Chiasi verrà riproposto al pubblico, sottotitolato in italiano e migliorato sia nella qualità audio che video, questa sera alle 21 al Cinema Sociale di Gemona del Friuli.